Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Prima di iniziare col video però voglio parlarvi di una cosa importante. Faccio parte di un videogioco. Si chiama Unfollow ed è un gioco inquietante che porta alla luce e affronta temi molto profondi nell'ambiente dei social network. Se siete curiosi di sapere di cosa si tratta nello specifico, iscrivetevi al sito che vi lascio nell'info box e pinnato nel primo commento di questo video per ottenere la demo gratuita disponibile da febbraio. Se volete ricevere tutte le news e gli aggiornamenti potete iniziare a seguire la pagina Kickstarter. Detto questo, diamoci dentro col video di oggi. Oggi sono qui per parlarvi di un caso recente e anche molto doloroso. Ci troviamo in via dell'Arcoveggio, nella periferia nord di Bologna. La protagonista si chiama Alessandra Matteuzzi, soprannominata Sandra. Alessandra fa la rappresentante di vendita per uno showroom di abbigliamento e ha 57 anni. Ama raccontare la propria vita sui social network, infatti le foto caricate sul suo profilo Instagram lo dimostrano. Non esiste cosa più affascinante di una donna che si fa bella per piacere a se stessa. Scrive nella didascalia di un post di Instagram che risale a luglio del 2022, al cospetto dei suoi oltre mille followers. Ha un fisico da modella, è estremamente curata, dunque attenta al proprio aspetto. Alessandra rivendica quella libertà di sentirsi bella e di mostrare il proprio corpo. Posta quasi ogni giorno foto dei suoi outfit, ma pubblica anche post sulle serate trascorse con gli amici in discoteca, sui momenti dove è in compagnia della mamma, a cui dedica tanti pensieri di affetto, o ancora sui suoi viaggi e vacanze al mare. Queste foto trasmettono l'idea di una vita piena di amici, di passioni e di sogni. Proprio tramite i social network, Sandra conosce un ragazzo di nome Giovanni Padovani. Originario di Senigallia, in provincia di Ancona, Giovanni aveva raggiunto il successo sportivo diventando un calciatore professionista in serie C e D. Ha giocato in varie squadre, il Foligno Calcio, il Troina, il Giarre e, infine, è approdato alla San Cataldese, team siciliano. Anche lui è molto attivo sulle piattaforme social. Sul suo profilo pubblica decine di scatti in pose tra virgolette da modello, al mare o durante gli allenamenti, accompagnati da frasi motivazionali come Tra i post spicca una foto pubblicata a tempo prima in cui Giovanni Padovani promuoveva la campagna contro la violenza sulle donne della squadra del Troina Calcio, di cui, come detto, era giocatore. Non ha la violenza, respect, scriveva nel post. Tanti sono anche i contenuti relativi alla sua attività sportiva, video di interviste calcistiche e allenamenti. Le sue foto vengono accolte dai numerosi commenti delle sue fan. Moltissime donne e giovani ragazze gli fanno i complimenti per il suo aspetto, mentre qualche ragazzo lo loda per le sue doti atletiche. Della relazione tra il 27enne e la 56enne non c'è traccia sui social network. Nessun post e nessuna foto di loro due insieme, nonostante fossero entrambi molto attivi su Instagram. La coppia, più che altro, vive il rapporto a distanza perché lui si allena in Sicilia. Quindi, in sostanza, Sandra e Giovanni si vedono raramente. Tuttavia, da gennaio 2022 lui inizia a covare delle vere e proprie ossessioni verso di lei. Appena può, approfitta della pausa calcistica e va a trovarla per qualche giorno. Poi però, Alessandra decide di allontanarsi, non se la sente più, di portare avanti questa relazione. E Giovanni, piuttosto che accettare la sua scelta, inizia a perseguitarla. Si verificano degli episodi alquanto gravi. In un momento di ira, lui le rompe piatti e bicchieri, oppure si arrampica attraverso la terrazza e stacca la corrente del suo appartamento, per poi tenderle degli agguati sulle scale. Alessandra Matteuzzi, quando non riesce a evitare gli assili del suo ex, cerca di tranquillizzarlo. I due siedono su una panchina e parlano a lungo. Ma in verità, lei è atterrita. Gli inquilini del suo palazzo lo sanno e tentano di proteggerla. Ultimamente aveva paura di lui, perché era diventato molto insistente e non voleva farlo entrare in casa, dice una vicina. La donna, infatti, aveva percepito il pericolo. Tanto da dire alla vicina di casa, per l'appunto, se suona quel ragazzo, per favore, non gli apra. Alessandra era perfettamente consapevole di rischiare la vita. La drammatica circostanza e le sue paure emergono anche agli atti dell'inchiesta, della procura di Bologna. Io non voglio morire, scrive infatti Alessandra il 23 luglio in una chat con la madre di Padovani. Parole che esprimono tutto il suo terrore, quasi una previsione dell'epilogo sanguinario di questo rapporto segnato da gelosia assillante e da controlli asfissianti perpetuati a opera di Giovanni. Alessandra, confidandosi con la sua ex suocera, la implora. Tuo figlio va aiutato perché ha dei grossi problemi. Si riferisce agli episodi di stalking o alla pretesa che lei accedesse su WhatsApp per inviargli un video girato con lo smartphone ogni dieci minuti, al fine di dimostrare che non era in compagnia di altri uomini. Ma la risposta della madre del calciatore appare abbastanza lapidaria. Lui è rimasto convinto che tu lo tradivi continuamente. Mi ha detto che hai rovinato tutto. Comunque poi ci sentiamo al telefono. Alessandra però insiste. Questa è la sua follia e la sua patologia che lo porta a essere violento. Io non voglio morire. La madre di Padovani sembra difendere la reputazione del figlio. Guarda, risponde nella chat. Giovanni non è mai stato come dici con nessuno. Su queste cose ti sbagli. Così Alessandra sporge denuncia. Al di là di una più esplicativa lettura a posteriori, le parole che la donna verbalizza il 29 luglio in una caserma dei Carabinieri di Bologna appaiono come una tragica premonizione. Alla luce di tutte le occasioni in cui è riuscito ad accedere al condominio dove abito, ho sempre timore di ritrovarmelo davanti ogni volta che torno a casa o quando apro le finestre. La denuncia di Alessandra purtroppo non è servita a proteggerla. Non è stata adottata alcuna misura cautelare nei suoi confronti. Un angosciante peso sul cuore che Alessandra, nonostante fosse molto attiva sui social, teneva per sé. Nei post non scriveva mai una parola di dolore o di sconforto. Mostrava soltanto foto in cui era sorridente e sembrava serena. Come detto, in certi periodi Padovani richiedeva ad Alessandra un video ogni dieci minuti per sapere dove si trovava e che persone incontrava, ma non è finita qui. A febbraio Alessandra aveva scoperto che le password dei suoi account erano state tutte cambiate. La donna riferisce nella denuncia. Ho potuto constatare che erano state modificate sia le email che le password abbinate ai miei profili, sostituite con indirizzi di posta elettronica e password riconducibili a Padovani. Inoltre scrive Ho rilevato anche che il mio profilo Whatsapp era collegato a un servizio che consente di visualizzare da un altro dispositivo tutti i messaggi da me inviati. Ne ho quindi dedotto che nei giorni in cui era stato da me ospitato era riuscito a reperire tutte le mie email e le mie password che avevo memorizzato nel telefono. Bastava poco per far arrabbiare il 27enne. Anche una semplice foto da me postata sui social e che inquadrava le mie scarpe appoggiate sul cruscotto dell'auto al rientro di una trasferta di lavoro era stata motivo di una sua scenata, si legge nella denuncia. È stato più volte aggressivo nei miei confronti, non ha mai usato violenza fisica. Sfogando la sua rabbia, sempre dovuta alla gelosia, con pugni sulla porta, proseguiva Alessandra. Ora qui voglio fermarmi un attimo. Se sei in una situazione in cui l'uomo, il ragazzo, insomma, si arrabbia con la partner e inizia a spaccare tutti gli oggetti che hai in casa, il sottotesto è rompo gli oggetti che hai in casa per non rompere te. Dico solo questo perché secondo me si tende un po' a non considerare questa cosa, no? Se non mi mette le mani addosso, ma rompe le cose in casa, allora non ha mai usato violenza e non la userà mai. No, 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 non è detto. Non è assolutamente così, anzi. Se state con una persona che quando litiga con voi vi spacca mezza casa, è un problema. È un problema perché forse quando non avrà più cose da spaccare in casa inizierà a spaccare voi. E ve lo dico proprio senza peli sulla lingua, perché dovete fare attenzione. Vi riferisco chiaramente magari alle ragazze un po' più giovani. Ecco, mi raccomando, occhio, fate attenzione. Andiamo avanti. L'unico episodio in cui l'avrebbe toccata risalirebbe a maggio, in Sicilia, dove Padovani giocava a calcio, quando le avrebbe dato uno spintuone facendola cadere sul letto. La violenza più spietata l'ha esercitata nel tragico episodio conclusivo. La sera del 23 agosto 2022 Padovani l'ha aspettata per due ore sotto casa, armato di un martello, determinato a portare a termine la sua missione, massacrare Alessandra Matteuzzi, storia d'amore ormai finita e trasformata in persecuzione. Ricostruiamo quindi quei terribili momenti. Lei arriva nell'area cortiliva dinnanzi all'ingresso del suo condominio, alla periferia di Bologna. Lui si avvicina all'auto e Alessandra gli grida contro, te ne devi andare, non devi tornare più qui. Poi lei chiama sua sorella in una richiesta disperata di aiuto. Il calciatore finge di rassicurarla, le risponde, sì adesso me ne vado, ma è sempre più pressante. Si avvicina e comincia ad aggredirla, la butta a terra e la trascina sotto il portico del palazzo. La picchia a mani nude, le sferra pugne calci, la prende a martellate e la percuote, anche con una panchina che si trova nell'androne dell'edificio. La sorella di Alessandra, che rimane inchiamata, la sente urlare, vattene ti prego, fermati. Quando sono arrivati gli agenti, i padovani, era ancora sulla scena del crimine, con l'arma del delitto a pochi metri. Il primo a intervenire era stato un ragazzo del condominio, il quale ha raccontato che l'uomo non aveva fatto alcun tentativo di scappare, ma aveva biascicato queste parole confuse. Non ce l'ho con voi, ce l'ho con lei, aveva detto. Non vedo l'ora che arrivi la polizia, voglio finire tutto. Voleva chiudere il cerchio così, dopo mesi di tormenti e agguati. L'avvocato Salvatore Pirello, dirigente e legale della San Cataldese, squadra di serie D, ha descritto così il calciatore modello 27enne che ha ucciso l'ex compagna. Padovani era arrivato alla San Cataldese circa dieci giorni fa. Sebbene nei giorni trascorsi in albergo per il ritiro con i compagni avesse avuto un comportamento normale e con loro aveva anche instaurato un buon rapporto, sembrava un ragazzo un po' solitario. Ha aggiunto poi. Avevamo intuito che vedesse... Ha aggiunto poi. Avevamo intuito che avesse dei problemi e che non era sereno. Spesso si isolava, tant'è che Sabato aveva lasciato improvvisamente il ritiro dicendo all'allenatore che per problemi personali doveva andare via. Pirello ha spiegato che Padovani era stato escluso dalla rosa della squadra a seguito di questo episodio. Lunedì ci aveva ricontattato per chiedere di rientrare in squadra. Ma il fatto che fosse andato via senza nessuna spiegazione la sera prima della partita di domenica contro il Catania per noi era un fatto grave, quindi non l'abbiamo più reintegrato in squadra, comunicandogli che, per quanto ci riguardava, poteva cercare un'altra società. Certo, nessuno poteva aspettarsi fatti simili. La notizia ci ha sconvolti. Un amico invece ha rimpianto di non avere colto in tempo la gravità dell'accanimento di Padovani. Ho parlato l'ultima volta al telefono con Alessandra tre settimane fa. Mi aveva scritto perché era molto impaurita. Giovanni continua a seguirmi, mi ha detto, e si è sfogata. Mi ha anche girato la valanga di messaggi che lui le spediva. Le stava addosso, entrava nella sua pagina Facebook, continuava a inserire commenti. E non si accontentava di spiarla a distanza. Infatti, come ha riportato angustiato un condomino, una volta le ha staccato il contatore e si è appostato all'ultimo piano. Un'altra volta si è anche arrampicato fino al suo terrazzo. Sandra mi ha chiesto di scambiarci i numeri per sicurezza. Si vedeva che era una donna preoccupata. Alessandra, di fatti, aveva scritto in un recente post, La cattiveria mi stupisce sempre. Quando la subisco, rimango lì a fissarla, come fosse una bestia dalla quale non mi so difendere. Davanti alla furia feroce di Giovanni Padovani, arrestato per omicidio aggravato, la vittima non ha potuto fare niente. Sul suo profilo Instagram sono stati pubblicati centinaia di messaggi di condoglianze, ma ne sono apparsi alcuni privi di senso e di tatto da parte di chi diceva che Alessandra se l'era cercata perché aveva avuto una relazione con un uomo più giovane, che non aveva neanche trent'anni. Chi si è espresso in questo modo non la conosceva di certo e, in ogni caso, nessuna donna merita un simile calvario. La gente non sa, sospirava la cugina, che Alessandra per due anni ha assistito il padre malato fino a quando purtroppo è morto ed è stata vicina alla madre, che amava moltissimo, che poi, disgraziatamente, è stata ricoverata in una clinica perché le sue condizioni sono peggiorate. Le foto e i video più belli postati da Alessandra non sono quelle di Ibiza o Milano Marittima, ma i tanti selfie scattati con la mamma che lei definiva l'unico amore della mia vita. Per i familiari è stato difficilissimo trovare il coraggio di spiegare alla donna che sua figlia era stata barbaramente uccisa. Era trascorso un intervallo di quasi un mese tra la denuncia per stalking presentata da Alessandra ai carabinieri il 29 luglio e il suo omicidio la sera di martedì 23 agosto. Questo lasso di tempo, durante il quale non sono stati assunti provvedimenti a carico dell'ex compagno della vittima o a protezione di Alessandra, donna perseguitata dal suo ex e giustamente impaurita, è materia che si colloca al centro degli approfondimenti avviati dalla ministra della giustizia Marta Cartabia. La ministra ha chiesto agli uffici dell'ispettorato di svolgere con urgenza i necessari accertamenti preliminari formulando all'esito valutazioni e proposte. L'obiettivo delle indagini era capire se si poteva fare di più per prevenire l'ennesimo femminicidio come sostiene la famiglia della vittima. Tuttavia per il procuratore di Bologna Giuseppe Amato in questa vicenda non si può affatto parlare di mala giustizia. La denuncia ricostruito Amato è stata raccolta a fine luglio, il 1 agosto è stata iscritta e subito sono state attivate le indagini che non potevano concludersi prima del 29 agosto perché alcune persone da sentire erano in ferie, quello che potevamo fare lo abbiamo fatto. Dalla denuncia, secondo Amato, non emergevano situazioni di rischio concreto di violenza, era la tipica condotta di stalkeraggio molesto. Quindi l'impedimento è di peso dalle ferie d'agosto. I testimoni erano in vacanza e nessuno ha aiutato Alessandra. Avvocato, ho paura. Quei lunedì il telefono del legale bolognese Giampiero Barile squillava insistentemente. Dall'altra parte c'era Alessandra Matteuzzi che chiedeva aiuto. Nessuno mi dici a che punto è la denuncia. Può sentire lei la procura? Perché nessuno interviene? Prima di ferragosto era stato inviato un rapporto al PM di Bologna. Fettava lui chiedere al giudice dei provvedimenti restrittivi, come ad esempio il divieto per Padovani di avvicinarsi alla donna vittima di stalking. Alessandra però per più di tre settimane non ha ricevuto risposte. I carabinieri le avevano detto di chiedere alla procura. Mi ha telefonato perché intervenissi, ha raccontato l'avvocato Barile. Dalla procura è emerso che dovevano essere ascoltati alcuni testimoni che però, come detto, erano fuori Bologna per le ferie. L'avvocato ha aggiunto La cugina di Alessandra, l'avvocato modenese Sonia Bartolini, ha detto a riguardo Quello che è successo non è stato affatto un fulminaccio al sereno perché c'erano stati segnali precedenti, tant'è vero che c'era stata una denuncia. La denuncia era dettagliata, densa di episodi, quell'uomo era pericoloso, ossessivo, una volta le aveva danneggiato l'auto, l'aveva spintonata. Perché non sono intervenuti per fermarlo? La legge e il codice rosso va rivista, le donne non possono essere lasciate sole e abbandonate al loro destino dopo che denunciano. Di sicuro, in questo caso, c'è stato un ritardo nella risposta, il problema è nelle falle normative. Se viene esporta una denuncia per atti persecutori e nel contempo non c'è una protezione, continueranno i femminicidi. Marco Perini, nipote di Alessandra, ha affermato Mia zia era una persona di cuore e non si meritava tutto questo. Spero che questo episodio serva a cambiare le cose e mi aspetto che lui marcisca in galera, ma che non paghi una persona sola, altrimenti succederà di nuovo. Mentre Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, ossia Conferenza Episcopale Italiana, ha dichiarato Questo dramma ripropone urgentemente la necessità di un'azione etica, culturale e pure di prevenzione che coinvolge certamente le forze dell'ordine, ma anche tutta la comunità. I familiari di Alessandra, giovedì 25 agosto, si sono riuniti sul luogo del delitto. All'ingresso del palazzo, alcuni vicini e conoscenti hanno portato dei mazzi di fiori. Ciao Sandra, ovunque tu sia, continua a splendere. Si leggeva su un biglietto di accompagnamento. Il giorno dopo, venerdì 26 agosto, è stata fissata davanti al GIP Andrea Salvatore Romito l'udienza per Padovani, difeso d'ufficio dall'avvocato Enrico Buono. Per il giovane arrestato in flagranza dalla polizia, il PM Domenico Ambrosino ha chiesto la convalida e la custodia cautelare in carcere, per omicidio aggravato dallo stalking. Sempre nel pomeriggio di venerdì, il medico legale Guido Pelletti ha eseguito l'autopsia. Intanto, quello stesso giorno è scoppiata una polemica per un commento postato sui social da parte del direttore della Croce Bianca dell'Emilia Romagna, Donatello Alberti. Comunque anche lei, come andava conciata, ovvio che il ragazzo era geloso. Questo è il contenuto. In risposta, l'assessore regionale della Sanità, Raffaele Donini, ha scritto «Non esiste giustificazione alcuna per un atto così efferato e aberrante, che ha spento un'altra vita, piegato nel dolore un'altra famiglia e tutta la comunità cittadina», ha poi aggiunto. Per questo sono sdegnato dalle parole di Donatello Alberti. La Croce Bianca non ha alcun rapporto con il servizio sanitario dell'Emilia Romagna. Alessandra Matteuzzi è stata uccisa con 20 colpi, al volto e alla testa. Nel referto dell'autopsia sul corpo della donna è emersa quella che viene definita una escalation di atteggiamenti violenti, cominciato con calci e pugni, che le aveva provocato diverse fratture alla testa e al volto, ma anche un'altra dozzina di fratture a gambe, braccia e torace. Un quadro di terribile e inaudita violenza. Un accanimento cominciato da quando Padovani ha teso l'agguato all'ex fidanzata sotto casa sua, colpendola, dapprima con calci e pugni, ricorrendo anche a un martello, infierendo sulla testa e sul volto, poi su tutto il corpo, scaraventandole addosso persino una panchina di ferro trovata nel giardinetto del condominio dove Alessandra viveva. La donna è morta in ospedale dopo poche ore dalla brutale aggressione messa in atto dall'ex fidanzato a causa degli oltre 20 colpi sferrati alla testa e al volto. Quanto al fronte giudiziario della vicenda, l'inchiesta viene affidata alla procuratrice aggiunta Lucia Russo, in tandem con il PM Domenico Ambrosino. Padovani viene difeso da Denise Mondin ed Enrico Buono, mentre i familiari della Matteuzzi sono assistiti dai legali Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini. Il 25 novembre 2022 è stata inaugurata una panchina rossa nel Parco Zaniboni, in via dell'Arcoveggio, ovvero nei prezzi della casa dove abitava la vittima. Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Matteo Lepore, la presidente del quartiere Navile Federica Mazzoni e i familiari di Alessandra. «Alessandra, la tua storia fa rumore, resterai sempre nei nostri cuori», recitava il messaggio che accompagnava i fiori, adagiati sulla panchina dalla sorella Stefania, travolta dalle lacrime. «In memoria di Alessandra, vittima di femminicidio, perché nessuna donna subisca mai più violenza». È la frase incisa sulla targa, con la firma del quartiere Navile della città di Bologna e della famiglia Matteuzzi. «Non ti dimenticherò», si leggeva su una lettera lasciata da una partecipante. «Il nostro è un grazie che arriva davvero dal profondo del cuore», ha detto Andrea Matteuzzi, cugino di Alessandra, parlando a nome dei familiari e, in particolare, di Stefania e della madre, la quale non ha potuto prendere parte alla cerimonia. «Per noi tutti», ha continuato Andrea Matteuzzi, «solidarietà è una parola che riempie e dà una dimostrazione concreta di cos'è questa città, questo quartiere, questo popolo. «Questa solidarietà testimonia una grande forza di tutta la città ed è in grado di dare a tutti noi una forza maggiore, nonostante le difficoltà enormi che ci sono». Ha aggiunto ancora Matteuzzi, evidenziando che il messaggio veicolato dalla panchina è rivolto ad Alessandra e, in generale, a tutte le donne in questa giornata, ma anche tutti i giorni. «Il femminicidio di Alessandra è un fatto dolorosissimo, indilebile nella storia non solo della vostra famiglia, ma di tutta la comunità», ha affermato Francesca Mazzoni, presidente del Navile. «Con la panchina rossa ricordiamo una nostra cittadina, una donna libera, una donna della nostra comunità. Lo facciamo», ha precisato la Mazzoni, «per lei e per tutte le donne, per decostruire gli stereotipi, per attaccare e contrastare chiunque pensa che ci sia un modello giusto di vivere la propria vita e di essere donne». Giovanni Padovani, esprimendosi sull'aggressione, ha spiegato di aver riposto in auto e portato con sé il martello per legittima difesa, visto che, impastato, la sorella di Alessandra e il compagno lo avrebbero minacciato, quest'ultimo, a suo dire, brandendo un cric. Non è detto, comunque, che l'aggravante venga richiesta e riconosciuta successivamente durante l'iter processuale. Padovani si è autoassolto dicendo, «Mi sono sentito nuovamente usato e manipolato da Alessandra». Ai poliziotti ha raccontato di aver scoperto alcuni presunti tradimenti della fidanzata e ha parlato anche del suo imminente trasferimento in Sicilia, dove avrebbe giocato per la San Cataldese. Giovanni Padovani non aveva contato i telefonici con la vittima dal 4 agosto, dopo la rottura del 23 luglio scorso, però voleva spiegazioni da Alessandra Matteuzzi riguardo al fatto che lei aveva aggiunto sui social gli account di alcuni suoi ex compagni di squadra e amici. L'indagato ha dichiarato di aver chiesto un permesso all'allenatore e di aver fatto tappa a Senigallia prima di tornare a Bologna. Sostiene che lui e Alessandra, il giorno prima dell'omicidio e dopo aver parlato un po', si fossero chiariti, tanto che avrebbero concordato di sentirsi tutti i giorni e vedersi ogni due settimane. I due avrebbero trascorso il resto della giornata insieme facendo anche visita alla mamma di Alessandra in casa di riposo. Poi avrebbero consumato un rapporto intimo in macchina fermandosi in un luogo appartato. La vittima avrebbe confidato l'accaduto alla sorella dicendosi pentita. In ogni caso, giunta la sera, la coppia si è separata e Giovanni è tornato a Senigallia. Quando però ha richiamato Alessandra, non ha ottenuto da lei alcuna risposta. Quel silenzio era inaccettabile per lui. Eravamo stati bene, mi sono sentito manipolato, ha detto ai poliziotti. Così, la mattina dopo ha preparato lo zaino, inserendo il martello come strumento di difesa, ha precisato Giovanni. Eppure, alle 16, ha lasciato quel martello vicino a un cespuglio nel cortile di casa di Alessandra Matteuzzi. È salito sul tetto e l'ha aspettata. Quando l'ha vista arrivare, è tornato giù. Le sono andato incontro, mi sono messo un dito sulla bocca facendo le cenno di non parlare. Ma lei urlava e diceva che avevano già chiamato la polizia. A quel punto la situazione è precipitata. Mi è preso un raptus di rabbia, l'ho colpita in testa una volta con il martello, ma si è rotto subito. Ho afferrato la panchina e l'ho colpita con quella. Adesso vi parlo di un ulteriore risvolto amareggiante di questo caso. Prima di finire in cella per aver massacrato Alessandra conducendola alla morte, Giovanni aveva 270 seguaci su Instagram. Poi questi hanno iniziato ad aumentare fino ad arrivare a 1250. E il numero continua a crescere. Spesso dai commenti degli utenti risulta uno sconvolgente ribaltamento dei ruoli. L'assassino diventa vittima, la donna a cui ha tolto la vita è una che se l'è andata a cercare. Alessandra riceve insulti mentre Giovanni, che ha lasciato in fretta e furia il ritiro della San Caltese per andare a ucciderla, ottiene giustificazioni. Il post di una ragazza è la sintesi di quei pensieri fuorvianti. Lui, 27 anni, calciatore, modello, bello come il sole. Lei, 60 anni, narcisista. Lo ha traviato e usato in tutti i modi. Se l'è fatto fino al giorno prima della sua morte per poi sparire come sempre. Contro i messaggi come questo, a inizio ottobre la famiglia di Alessandra ha preso dei provvedimenti denunciando 25 persone. A novembre se ne sono aggiunte altre e ora sono in arrivo nuove querele. Monitoriamo i social ogni giorno, spiega l'avvocato Chiara Rinaldi. Gli haters sono diventati più sudoli, raffinati. Dopo i commenti di insulti alla vittima adesso giustificano Giovanni Padovani e attribuiscono a lei i comportamenti che avrebbero portato l'uomo a impazzire. Un conto è la libertà di espressione ma cui potrebbe configurarsi il reato di istigazione alla violenza di genere. Come detto, l'autore di uno dei primi post segnalati è stato Donatello Alberti, il direttore regionale della Croce Bianca locale. Poi sospeso, fortunatamente. Dunque, una figura che ricopriva anche un ruolo sensibile. A chi si era indignato leggendo le sue parole e che vi ricordo erano comunque anche lei come andava in gira conciata. Ovvio che il ragazzo era geloso. Aveva poi risposto su Facebook comportatevi più sobriamente come le nostre nonne. Non siate scostumate e provocanti e gran parte delle aggressioni saranno evitate. La colpa prima di tutto è del mondo di oggi totalmente fuori controllo. La donna fa l'uomo e viceversa. Ma dove siamo arrivati? Donatello Alberti, vi posso dire una cosa perché io dopo aver letto questa fantastica frase ho pensato ma siamo davvero nel 2023? Pronto Medioevo? Comportatevi come le nostre nonne. Ma cosa cavano hanno letto i miei occhi? Cosa? Cosa? Donatello vai a quel paese va. E purtroppo lui non è il solo a pensarla così. Infatti qualcun altro ha scritto ne conosco di donne simili a lei che arrivano a usarti come uno zerbino finché non sprofondi nella merda e loro godono in questo però lui ha pensato bene di farle capire che ci vuole rispetto purtroppo per lui è andato oltre e adesso si è rovinato la vita. Ma noi ci rendiamo conto come è stata uccisa questa donna? Ma un minimo di rispetto almeno per come è stata ammazzata da questo uomo no? Cioè è andato troppo oltre e adesso si è rovinato la vita. Poverino si è rovinato la vita. Beh cacchio ha preso una panchina e l'ha sfracassata addosso a una donna in volto ce le rendiamo conto? vado a farmi una tazza di camomilla che è meglio. Qui ragazzi per me c'è bisogno di una tannica di non so melissa e una tannica di una tisana rilassante per andare avanti perché sono davvero incazzata come una iena ma davvero tanto e mi sono incazzata come una iena anche a scoprire tutte ste schifezze. Empatia questa sconosciuta ma andiamo avanti andiamo avanti a infangare Alessandra c'è anche chi ha commentato un'altra santa chissà chi ha fatto per arrivare a tutto ciò sicuramente l'avrà tradito ma tu che cacchio ne sai ma che cacchio ne sai e dunque c'è chi sostiene Giovanni scrivendo è una bravissima persona le anime troppo sensibili vengono strangolate dalla vita noi amici siamo con te sempre a maggior ragione in un frangente come questo vi giuro che io sono senza parole è una bravissima persona che ha preso una panchinella distrutta addosso a una donna ne vogliamo parlare? è una brava persona che ha preso un martello ha iniziato a colpire una donna e dopo due colpi si è rotto il martello per quanto lo stava colpendo forte ci siamo? che è grave? io davvero togliete l'internet a ste persone vi prego vi prego facciamo un bene all'umanità togliamo l'internet a queste persone non si può sull'onda dei commenti più sconcertanti qualcuno ne approfitta per insultare le donne con attacchi alla categoria qua siete tutti a infamarlo a me non sembra che lo stessero infamando ma andiamo avanti due giorni prima dell'omicidio gliel'avreste data subito senza fiatare ma è davvero il caso di fare questi commenti sotto una notizia di un femminicidio ma anche di un omicidio facciamo finta che non sia un femminicidio vi sembra normale? vi sembra normale? il rispetto il rispetto verso il prossimo dove cacchio l'avete lasciato? dove? inoltre emerge una realtà distorta e diffamatoria come quella rappresentata da tale Mika che scrive dai il giorno prima avevano fatto l'amore e poi il giorno dopo mentre era al telefono con facendo finta che aveva paura di Giovanni era al telefono con la sorella tra l'altro per l'amor di Dio non lo voglio difendere perché togliere una vita a una persona non lo decide nessuno però neanche è giusto dire che lo amava mentre stava con altri ma io vorrei capire quando è emerso che Alessandra tradisse questo ragazzo quando? perché vi assicuro che ho letto qualsiasi cosa sia stata pubblicata su questo caso e non c'è traccia di un articolo che dica Alessandra Matteuzzi aveva tradito l'uomo che poi l'ha uccisa non ci sono e anche se l'avesse tradito non è che giustifica un omicidio di nuovo mio Dio che rabbia continuiamo e poi una donna di 60 anni che ci faceva con un ragazzo di 27 cosa ha fatto per farlo innamorare e uscire pazzo signora gli avrà messo qualcosa nel bicchiere perché è un ragazzo che non ha avuto mai problemi con la legge che pensava solo a giocare a pallone i conti non tornano ma io mi chiedo queste persone conoscevano l'assassino? io mi pongo questa domanda perché questi commenti sembrano fatti non lo so dalla vicina di casa con cui aveva perennemente rapporti che lo vedeva tutti i giorni con cui ci parlava anche sembra davvero cioè queste persone come fanno ad arrivare a queste conclusioni? sono cose campate per aria perché qui nessuno conosceva Alessandra nessuno conosceva la reale storia che c'era con il signor Padovani quindi perché battere le mani su una tastiera così inutilmente? fate altro fate altro davvero perché se il vostro tempo libero equivale a oh sì adesso vado a farmi un giratto su facebook leggo questa notizia e penso di scrivere un commento o uno dei commenti che già ho letto simili è un problema è un grosso problema un enorme problema a mio avviso ma proseguiamo se ricordate prima vi ho detto che a novembre nel parco poco distante da casa di Alessandra è stata inaugurata una panchina rossa dedicata alla vittima e ovviamente simbolo della violenza contro le donne vi ho detto del fascio di fiori portato dalla sorella di Stefania e del biglietto con su scritto Alessandra la tua storia fa rumore resterai sempre nei nostri cuori dovete sapere che ahimè purtroppo sono stati rubati entrambi un altro gesto di sfregio alla sua memoria accanto alle parole degli odiatori arrivate per l'occasione insofferenti verso la vittima comprensive nei confronti dell'assassino due vite rovinate e una delle considerazioni espresse via social i contenuti come questo sono stati rimossi ma l'avvocato Chiara Rinaldi ha rintracciato i posto uno per uno e gli ha screenshottati così da consegnarli agli investigatori e ha fatto bene Padovani è stato arrestato lo scorso 23 agosto quindi lo stesso giorno dell'omicidio a settembre la difesa ha rinunciato a presentare la richiesta di attenuazione di misura cautelare al tribunale del riesame già respinta dal GIP per l'eccezionale pericolosità e assoluta incontrollabilità o prevedibilità delle azioni non ha mai scritto ai familiari di Alessandra né ha cercato di mettersi in contatto con loro tramite l'avvocato che dopo averlo visto in aula lo ha descritto così un uomo sereno tranquillo educatissimo gentile e collaborativo ha partecipato attivamente all'udienza soprattutto mi è sembrata una persona risolta secondo me si rende conto di quello che ha fatto e ho l'impressione che lui sia felice di aver portato a termine il proprio compito grazie alle indagini sono emerse le ricerche fatte su google da Giovanni Padovani aveva cercato informazioni su come ammazzare Alessandra ma anche sugli anni di reclusione previsti in caso di stalking e omicidio una ricerca minuziosa ossessiva e folle centinaia di pagine lette da giugno 2022 fino a poco prima di ucciderla il 23 agosto sotto casa della vittima stalking e violenza sulle donne quanti anni di reclusione è una delle frasi chiave digitate sul motore di ricerca ma anche come comprare un'arma come stordire una persona con una mazza e ancora cosa fa un detenuto tutto il giorno così si esprimeva il delirio di un uomo che cercava sul web una risposta al suo desiderio di vendetta per un amore non corrisposto tutto questo avveniva poche settimane prima di commettere il delitto di prendere a martellate Alessandra la sua ex probabilmente prefigurando quanti anni di galera avrebbe dovuto scontare tutto questo avveniva poche settimane prima di commettere il delitto di prendere a martellate Alessandra la sua ex probabilmente prefigurando quanti anni di galera avrebbe dovuto scontare. Le ricerche fatte dall'indagato sono state elencate nella consulenza tecnica informatica depositate in procura a Bologna, dove resta aperto il fascicolo per omicidio aggravato nei confronti del calciatore dilettante. Una decina di giorni prima di essere uccisa, Alessandra Matteuzzi si era confidata in chat con un poliziotto conosciuto su un'app di incontri. Gli aveva raccontato quello che stava vivendo a causa delle persecuzioni dell'ex fidanzato. La conversazione è la seguente. Bisogna stare attenti a quelle persone, ma ora lo hai mollato? Le chiedeva il poliziotto. Certo e non solo, ma non ti posso raccontare ora. Spero tu sia serena ora, le diceva lui. Ancora no, è presto, rispondeva Alessandra. Ti dico solo che si è arrampicato al secondo piano del palazzo dove abito. Una mattina, poco tempo fa, apro la finestra della terrazza e me sono visto entrare. Un folle, commentava il poliziotto e poi domandava. Hai fatto denuncia? Risposta di Alessandra. Non posso dirti nulla, ti ripeto, è una situazione molto delicata. Deduci. E lui? Sono un poliziotto, quindi posso immaginare. Ti auguro solo di aver risolto. Altri allarmanti conferme arrivano dal cellulare di Padovani. Il 20 agosto, appena tre giorni prima della tragica fine di Alessandra. Le note del cellulare dell'indagato riportano. Nastro isolante, martello, corda, tra parentesi, meglio manette. Fai chat inventata da te e lei dove ti dice di venire a casa sua e portare le manette. Così voleva tentare di sviare i sospetti su di lui una volta commesso il delitto. Per due mesi Padovani avrebbe pianificato i dettagli di quell'ultimo agguato sotto casa della sua ex per consumare il femminicidio premeditato. Tra l'altro, con la madre si sarebbe anche vantato della propria capacità di infiltrarsi in casa di Alessandra, confessandole in una chat di essere riuscito a entrare nel sistema di telecamere interne dell'appartamento dell'ex fidanzata, per spiarla in ogni suo movimento. Dalle ricerche ossessive del calciatore si evidenzia che era ormai convinto di rischiare di trascorrere il suo futuro in galera. Tanto che proprio su Google, due giorni prima dell'agguato, aveva cercato come andare in Albania. Per andare in Albania serve il passaporto, forse ipotizzando un disperato piano per fuggire dopo l'omicidio. E ancora, stati dove non valgono le leggi italiane o dove non conta la pena di morte. Ma forse la più inquietante formulazione delle sue ricerche frenetiche è composta da come uccidere la moglie ed essere felici. I risultati della consulenza sullo smartphone del calciatore 27enne, ultimo contatto chiuso con la San Caltese, con le ambizioni e le foto social da modello, sono stati depositati dal consulente tecnico nominato dal procuratore aggiunto Lucia Russo e dal PM Domenico Ambrosino. Alla luce di quanto emerso dal telefono di Giovanni Padovani, accusato di omicidio volontario, gli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, legali della famiglia di Alessandra, hanno ritenuto che la contestazione dell'aggravante della premeditazione sarà inevitabile. Difatti l'app delle note di Padovani è una sorta di diario dell'orrore. Il 2 luglio il giocatore si era sfogato e al contempo aveva preparato il terreno per quella che, nella sua mente, rappresentava una giustificazione. L'ha uccido perché lei mi ha ucciso moralmente, mi ha manipolato e usato facendomi passare per pazzo, ma la pazza è lei. Direte, lui l'ha uccisa, non sta meglio, anzi, è lui il pazzo, ma non è così, lei mi ha tradito, lo scrivo perché andrò in galera e così la polizia capirà il male che lei mi ha fatto. In verità era sin dall'11 giugno, fino a poche ore prima del delitto, che Padovani vagliava il metodo più efficace per uccidere la sua ex. Vagheggiava architettando la fuga e si preparava a un possibile arresto. Digitava a ripetizione, quanto ci vuole per morire per strangolamento? Con un colpo alla testa forte, con una spranga, riesce poi a urlare? Dove perde meno sangue una persona con un coltello? Da qui poi pensava al posto migliore per nascondersi con una persona morta e dove è più difficile rintracciare un cadavere? Il 23 agosto, come detto, Padovani aveva abbandonato il ritiro con la squadra. Aveva preso un aereo ed era atterrato a Bologna per mettere in atto il suo terribile piano. Alle sei di sera era stato scosso da un dubbio e se Alessandra reagisse? Spray al peperoncino in faccia. Cosa comporta? Era stata quindi la sua ultima ricerca. Prima di massacrare personalmente la ex, Padovani aveva esplorato altre possibilità informandosi su tariffe per uccidere, il rapimento perfetto, pagare una persona per picchiare. Il calciatore ora si trova nel carcere di Bologna e si mostra rilassato e impassibile. Il giorno dopo l'omicidio si è seduto a pranzo con gli altri detenuti e ha mangiato ma anche di gusto. E a Natale pare si è intervenuto per soccorrere un compagno di cella che voleva suicidarsi. La memoria di Alessandra Matteuzzi invece continua a essere oltraggiata dopo l'omicidio. All'autore reo confesso del femminicidio avvenuto a Bologna il 23 agosto 2022, quando tra pugni martellate e colpi di panchina ha ucciso l'ex compagna, è stata dedicata una pagina facebook denominata Giovanni Padovani, un mito, una leggenda. Creata lo scorso 27 agosto la pagina era ancora presente a distanza di oltre 4 mesi dall'omicidio, seguita da 9 persone e senza possibilità di risalire all'identità loro e a quella del suo creatore. Fortunatamente ora la pagina è stata rimossa. Questo è tutto ciò che per ora si sa sul tremendo caso di Alessandra Matteuzzi. Anche se il suo omicida, come detto più volte, è recluso in carcere, non riesco davvero a sopportare le accuse rivolte alla vittima tramite i social. E l'avrete anche intuito. Credo che il rispetto sia un principio alla base davvero di tutto nella vita e se non si porta rispetto per una provara donna che è stata letteralmente massacrata e condotta alla morte, la situazione è davvero tragica. Dove diavolo l'abbiamo lasciata? L'empatia. Perché c'è questo costante bisogno di mettere in croce la vittima? Forse perché Giovanni è un bel ragazzo? Io non esagero. Infatti forse saprete e ricorderete che in alcuni casi sono state mosse proprio queste osservazioni. Non può essere stato lui perché è troppo bello. Onestamente credo che la famiglia di Alessandra abbia fatto bene a denunciare gli haters che a quanto ho letto sono più di 25 persone. Come dice spesso una mia cara collega Elisa True Crime, allenate l'empatia perché a me queste situazioni fanno rabbrividire e inorridire. Detto questo ho finito di parlare in questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso. Io l'ho trovato atroce. Questo non è il classico femminicidio. L'ho trovato proprio atroce. Atroce anche per tutto il contorno. Quindi sono curiosa di sapere qual è la vostra opinione. Come al solito ci becchiamo nei commenti. Detto questo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi. Continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!